Cadra Maiuri, è buono, va bene? Quante persone sono? Manca di soli. Manca da soli. Eh? Guardate qua. Dove venite voi? San Giuseppe Suiano. Positano News, no Renzi. Positano News, mi raccomando. No Renzi. Il giornale. Non ce la Renzi, dono. No, no, no. Ecco qua, guardate che bello. Anche da là, dietro.